Il suo figlio è Gesù Cristo Ci sono persone che vorrebbero vedere, conoscere, toccare questo ragazzino Ciao, passavo, ti ho visto Ah, dei franziati Non è la mia fidanzata, poi è troppo grande Mi devono spiegare come mai dopo l'incidente vede queste fantasie malate Non mi prendi in giro, non sono scemo come la mamma Ma tu davvero ci credi che le cose che sembrano impossibili puoi succedere? Ho avuto un incidente, ho visto una luce, forse era Dio Hai visto Dio?